Il giorno di Natale 25 dicembre e in questo nostro appuntamento con il TRG Plus vedremo il messaggio che il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, Città della Pieve, nonché Presidente Cei lascia e lancia ai telespettatori. Parla di crisi, di terremoto, di famiglie e di industrie, ovvero anche un po' degli argomenti che hanno negli ultimi tempi attanagliato anche la Regione. Serve una sinergia per risolvere le problematiche, dice per l'appunto Bassetti. E poi parla della Natività, di come la figura di Maria sia stata fondamentale proprio nell'Avvento e nel Natale stesso e l'importanza quella di portare il Vangelo di Gesù non solo il 25 dicembre ma in tutti i giorni dell'anno. solo così si può ovviamente crescere e affrontare i problemi e appunto diffondere la voce di Dio. Questo nel messaggio proprio del Cardinale Gualtiero Bassetti che ci andiamo ad ascoltare ancora a tutti voi. L'augurio di un felice Natale. Abbiamo dovuto ancora lottare perché forse pensavamo di essere già fuori della crisi ma ci siamo ancora immersi. La crisi è più dura di quanto pensavamo. Terremoto non si è fatto molto. Continua l'esito dei nostri giovani verso altre patrie per motivi di lavoro. Abbiamo ancora tante famiglie in difficoltà. Le nostre industrie, anche piccole, hanno sofferto e molte non riaprono e stentano a ripartire. Quindi non è una soluzione facile perché i problemi si accavallano e ne sono tanti. Occorre veramente la buona volontà di cui ha dato l'annuncio l'angelo a Natale. Pace in terra agli uomini che egli ama, che poi tradotto vuol dire agli uomini di buona volontà. Qui bisogna che tutti, io l'ho detto l'altra mattina, quando fate i saluti noi dobbiamo essere i primi a impegnarci. Con noi tutte le istituzioni che hanno il governo delle città, della provincia e della regione formare una sinergia e dire questi sono i problemi e queste sono le soluzioni che possiamo dare. Quando nacque Gesù a Betlemme, la Palestina era in una condizione molto più disperata della nostra Umbria. In fondo era diventata una patria di poveri e di schiavi e di sfruttati. Ma ci fu una giovane donna che portò la speranza del mondo, perché credette fino in fondo e disse il suo sì al Signore. Maria è colei che ci ha preparato al Natale, la figura determinante dell'Avvento, ma è anche colei che ci aiuta a vivere il Natale, perché Maria porta Gesù. E noi potremo risolvere come cristiani, ma anche come uomini di buona volontà, indipendentemente dall'essere cristiani, portando il Vangelo di Gesù. In maniera molto concreta. Gesù è il povero, l'amore ai poveri. Gesù è il perseguitato, l'amore ai perseguitati. Gesù è l'operatore di giustizia e quindi ci insegna a colmare tutte le ingiustizie. Gesù è la pace e quindi ci può dire, beati pacifici, essere costruttori di pace. Non è che ci mancano i mezzi o i principi luminosi. Forse come Maria dobbiamo metterci in cammino e accogliere fino in fondo Gesù, che poi sono gli insegnamenti del Vangelo, come stavo esplicando. Questo è il Natale. Il Natale è una cosa seria. O uno lo accoglie fino in fondo o se no dopo tre giorni passate le feste, passate i fumi, passate le luci. È ancora peggio di prima perché è più grande la delusione. Ma così non deve essere. Ed è per questo che io con tutte le mie poche forze che mi sono rimaste, perché sto invecchiando, vi dico fate un Natale buono. Questo Natale è fecondo di bene, di amore, di giustizia, di pace. Non sono discorsi, sono i punti fondamentali su cui può reggere la nostra vita. Allora Natale buono a tutti. Allora Natale buono a tutti.